Salve ragazzi e benvenuti in una nuova puntata qua sul canale, oggi torniamo a parlare di edizioni, è passato davvero tanto tempo dall'ultima volta che abbiamo parlato un po' di edizioni, di editoria, di volumi eccetera, ma ho voluto portare una puntata speciale soprattutto su una collana appartenente ai fasti del passato perché mi è ricapitato qualche volume tra le mani, mi sono accorto che era davvero fatto bene, mi sono reso conto che questi volumi sono davvero anche economici, abbordabili sul mercato dell'usato, infatti purtroppo parleremo di nuovo di opere mai più riedite nell'epoca degli anni d'oro dell'editoria italiana, mai più riedite e quindi qualcosa da reperire sull'usato. La fortuna che se ne sono state stampate davvero tante copie, erano dei testi introduttivi gestiti dalla casa editrice e la scuola, oggi andiamo a parlare delle introduzioni alle opere filosofiche di la scuola, la casa editrice fantastica che ha pubblicato delle opere straordinarie, ne riparleremo della scuola perché è una casa editrice veramente che ha creato, ha dato vita, ha dato voce ai filosofi internazionali in Italia, ai grandi classici della filosofia, ci ha dato voce in maniera piena, consistente, non semplicemente con delle ottime traduzioni, con i massimi curatori ed esperti di filosofia in Italia negli anni del secolo del secolo del secolo del secolo, ma anche con edizioni estremamente di pregio, con edizioni in fascicoletti, con edizioni resistenti, con carte pregiate, ma sempre comunque anche abbordabili. La casa editrice e la scuola, lo vediamo adesso, pubblica e ha pubblicato nel corso degli anni questa sorta di introduzione alle opere filosofiche, che io ne ho veramente tantissime, alcune ereditate, alcune prese sul mercato dell'usato, solitamente io non ne ho lette troppe di queste introduzioni, solitamente le uso come appoggio perché ho sempre avuto l'occasione di appoggiarmi su testi specifici. Allora, voglio elencare subito il difetto più grande di queste edizioni, il disordine totale. Non c'è una linea. Qual è la linea sostanzialmente predefinita? Io l'ho chiamata introduzioni alle opere filosofiche, ma fondamentalmente è qualcosa che sono stato io un po' a inventarmi, perché, ad esempio, prendiamo quest'opera casuale, Giorgio Hegel, c'è il classico nome italianizzato, La Dialettica. Allora, per un esperto di egelismo, risulta immediatamente, nell'immediato, che Hegel non ha mai scritto un'opera filosofica che si chiama La Dialettica. E quindi risulta immediato, perché è un po' più scafato, che quest'opera filosofica sia stata, è un libro, un'opera filosofica che tratta dell'argomento della Dialettica di Hegel. Ma, se ci facciamo caso, dal frontespizio non si riesce minimamente a capire che è qualcosa di questo tipo. Anzi, sembra proprio un'opera scritta da Hegel, perché abbiamo, nell'intestazione dove ci andrebbe l'autore, proprio Hegel, nel titolo La Dialettica, e non abbiamo nessun sottotitolo. Solo andando ad aprire il volume ci rendiamo conto che il sottotitolo recita antologia sistematica. Quindi ci rendiamo conto che è una raccolta di testi, introduzione e traduzione noti, a cura di Cornelio Fabro. Quindi, innanzitutto, non abbiamo opere sistematiche, come in questo caso non viene trattato un'opera sistematica, ma viene trattato un argomento. Poi, devo ricordare dopo di parlare anche dei curatori, già abbiamo citato un grandissimo nome, Cornelio Fabro. Poi, però, allora sostanzialmente potremmo dire, allora è un'introduzione fatta per argomenti, ma non è assolutamente così. Perché poi, ad esempio, nel secondo volume, abbiamo proprio l'evoluzione creatrice di Henry Bergson. E, però, ci accorgiamo di una piccola cosa. L'evoluzione creatrice di Henry Bergson, a cura di Giancarlo Penati, anche qui, anche questa volta, però, dopo un po' che guardiamo la consistenza del volume, e ce ne accorgiamo solo da questo aspetto, ci accorgiamo che il volume è estremamente esile. L'evoluzione creatrice è un'opera che conta più di 300 pagine. Per non contare, andiamo subito a prendere... La critica è ragion pura di Kant. Guardate, la Gustavo Bontadini... Ci accorgiamo subito che non può essere la critica è ragion pura di Kant. Non può essere composta da 127 pagine. La critica è ragion pura di Kant. Allora, che cos'è? È un'antologia dei testi, quando dopo andiamo ad aprire, magari nel sottotitolo, vediamo... Esatto. Cioè, solo nel sottotitolo, solo dentro, leggiamo, estratti. Ma scusami, se uno deve acquistare questo volume online, se uno deve acquistare questo volume... Questo volume usato, e abbiamo la foto solo della copertina, e io leggo Kant, critica è ragion pura, lo acquisto pensando che sia l'opera completa, perché io non riesco a vedere il fatto che sia composta da 127 pagine. E quando mi arrivo a casa, mi rendo conto che sono semplicemente degli estratti. Questo è stato il più grande problema. Perché il più grande problema? Perché in uno abbiamo gli argomenti, in uno abbiamo un'antologia dei testi, ma non è finita qui, perché diciamo, è solo l'antologia dei testi? No! Perché se andiamo a prendere il Protagora di Platone, curato da Giovanni Reale, questa volta abbiamo tutta l'opera completa. Abbiamo le nostre 217 pagine di dialogo su Protagora, traduzione, introduzione, e anche il commento di Giovanni Reale. Questo non viene mai specificato, e questo per me è il più grande limite di questa collana, perché crea una confusione incredibile. In uno abbiamo la trattazione di un argomento, nell'altro abbiamo il commento di alcuni estratti di un'opera, e nell'altra parte abbiamo invece un'opera completa. Dobbiamo stare estremamente attenti. Allora, fondamentalmente, come si potrebbero dividere? Allora, io le opere complete di un filosofo l'ho visto solo per quanto riguarda Platone. Solitamente, quando troviamo l'editrice e la scuola, pubblicare opere di Platone in questo formato, solitamente, e dico solitamente, abbiamo l'opera completa. Per tutte le altre opere, il Contratto Sociale di Rousseau, la Critica d'Argentura, l'Evoluzione Creatrice, si tratta di estratti dei testi, che io apprezzo tantissimo. Qui addirittura, è stato un libro che è stato sottolineato e studiato non da me, qui addirittura abbiamo una serie di estratti commentati, ma qui addirittura non abbiamo l'idea, non abbiamo la dotazione che ci dice che l'Evoluzione Creatrice, in questo caso qui, è un estratto, non è l'opera completa. Non è assolutamente l'opera completa. A volte non ci viene neanche indicato, è questo che è veramente pericoloso. L'Evoluzione Creatrice non può essere contenuta in un testo di questo tipo, perché questo conta di 130 pagine, l'Evoluzione Creatrice è un testo che consta di più di 300 pagine, e questo è anche commentato da Giancarlo Penati, e non viene indicato da nessuna parte, è qualcosa che noi impariamo sul campo. Allora, questi sono i grandi difetti, cioè quando andiamo a comprare online, dobbiamo guardare attentamente se l'opera è completa, se l'opera è semplicemente composta dai estratti commentati, e se l'opera è esistente. Perché io immagino magari uno studente del primo anno, secondo o terzo anno di filosofia, che si approccia per la prima volta ad Hegel, legge un'opera di questo tipo, immediatamente ci viene a pensare, Hegel ha scritto un'opera filosofica che si chiama La Dialettica, che non è vero, non è mai stata composta, e se va all'esame dicendo qualcosa di questo tipo, rischia anche di essere rimandato a casa. Quindi, questo è stato il più grande difetto che ho trovato in quest'opera. Allora, detto ciò, e tolte le opere complete, perché è così straordinariamente interessante, e io reputo, anche rispetto al prezzo, qualità prezzo, qualitativamente, rispetto al prezzo, le migliori opere introduttive, a singole opere filosofiche. Se ci ricordiamo, io avevo dedicato una puntata a parlare delle edizioni La Terza, che hanno fatto una decina di opere, come guide alle opere filosofiche. Se mi ricordo, ti metto qua in alto il link. Ma, queste introduzioni alle opere filosofiche, a mia detta, sono imbattibili. Leggiamo un attimo i nomi dei curatori di queste opere, e facciamoci un'idea di chi stiamo parlando. Giancarlo Penati, per quanto riguarda l'evoluzione caratteristica, ha curato anche l'opera, sempre per questa casa di Tris, l'essaggio sull'intelletto umano, di Locke. Gustavo Bontadini, che ha curato questa piccola introduzione alla critica della John Pura. Gustavo Bontadini, maestro di Barzaghi, maestro di Severino, maestro di grandissimi filosofi italiani. Protagora, curato da Giovanni Reale. Qui abbiamo la classica edizione, che ritroviamo anche dei Bonpiani, che ritroviamo un po' in giro per la rete. Novo Morgam, curato da Enrico De Mas, grandissimo filosofo, che si occupano anche della filosofia di Bacone. Il principio di non contraddizione, anche questa, guardiamo subito, e qui potremmo essere ingannati e dire, ah, Aristotele ha scritto un'opera che si chiama Il principio di non contraddizione. No, non ha scritto nessun'opera che si chiama Il principio di non contraddizione. Questa, semplicemente, è un'esposizione fatta da Emanuele Severino sul principio di non contraddizione di Aristotele. Andiamo a vedere se c'è qualche indicazione al suo interno. Ecco, questo sarebbe il commento, lo vediamo da qua, al libro quarto della Metafisica, traduzione, introduzione, commento di Emanuele Severino. Ma non abbiamo nulla al di fuori che ci indirizzi su che cosa troviamo all'interno. Andiamo avanti. Galilei, l'antologia di testi, questo è l'unico che è chiaro, che non ha dei titoli strani, antologia, curata da Sofia Vanni Rovighi. E poi, infine, la dialettica di Hegel, curata da Cornelio Fabro. Qui, in studio, ne ho tantissimi di questi testi. Sono testi utilissimi, io ve li consiglio tantissimo perché, ripeto, in affiancamento all'opera originale, questo non l'ho detto, voglio specificare, in affiancamento all'opera originale, io consiglio assolutamente questi testi perché provate a immaginarvi, orientarvi all'interno della critica della ragion pura senza un testo supplementare. C'è la confusione più totale. Qui abbiamo subito l'opera di un grande, Gustavo Bontadini, la critica della ragion pura. Abbiamo in poco, in poco più di 130 pagine, una selezione dei testi fondamentali che possiamo andare sull'opera originale, segnarli, mettere dei post-it e abbiamo dei capisaldi, abbiamo un sunto, abbiamo un affresco di un'opera che costa 300, più di 300 pagine. Abbiamo in 130 pagine un estratto commentato anche. Quindi non ne sono solo testi di antologia, ma sono testi in cui ci viene presa quella parte lì, ci viene spiegata anche perché viene presa quella parte lì e perché quell'estratto di testo è più importante di tutto il resto. Quindi è importantissimo all'interno dei classici della filosofia che utilizzano dei linguaggi complicati e che come me li deve leggere anche in traduzione, quindi si perde anche molte volte e molte dalla pregnanza perché i termini adattandosi perdono anche significanza. Questi testi ci aiutano, ci aiutano a focalizzare, ci aiutano a gerarchizzare un testo, ci aiutano a mettere a fuoco cos'è e su cosa dobbiamo andare a puntare. Testi quindi utilissimi, volevo parlarvene un po', sono contento di averlo fatto, spero anche che si trovi che probabilmente per tutti i più grandi classici il pensiero si trova. La scuola, la casa editrice, la scuola ha fatto un'opera di questo tipo. Ripeto, in studio qua ne ho davvero decine di questi piccoli volumi inseriti un po' tra i libri. Ne ho presi quelli che mi hanno colpito di più per farvi vedere quanto sono importanti anche le curatele dei testi, Sofia Vanni Rovighi, Cornelio Fabro, Emanuele Severino, Vontadini, De Mas, veramente filosofi della grande Accademia Italiana del 1900. Non fatemi sfuggire, cercate di acquistarli se li trovate usati, ovviamente iscriviti al canale se ti piacciono questi tipi di contenuti e noi ci sentiamo in una prossima puntata. Intanto, grazie mille.